Buongiorno, buongiorno amici, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Iniziamo insieme le trasmissioni della nostra emittente questa mattina dando un'occhiata ai giornali. C'è di che leggere questa mattina, ci sono diverse notizie per quanto riguarda il weekend e noi come sempre procediamo attraverso l'almanacco del giorno per vedere chi si festeggia oggi. Eccolo il santo. E Santa Ronne, fratello di Mosè, ebbe una parte importante nell'Esodo quando gli ebrei lasciarono l'Egitto, vagarono nel deserto per poi raggiungere la Palestina e aiutò il fratello prima con il faraone d'Egitto, poi cercando di mantenere, insomma di sopire le deviazioni del popolo di Israele che per un certo periodo abbandonarono anche il loro Dio. Le vita perpetrò la discendenza sacerdotale fino alla venuta di Cristo. Questo appunto è Santa Ronne. Ed ora vediamo le previsioni del tempo. Ecco la grafica, una mattinata che inizierà calda, estiva e all'insegna del bel tempo con una temperatura che si è testata sui 22 gradi per quanto riguarda la minima e sui 30 gradi ma anche forse di più per la massima. Comunque ci sarà un peggioramento, così dicono gli esperti, nella tarda serata. I venti sulle coste espirano da est, nell'interno da sud ovest il mare leggermente mosso. Il sole è sorto alle 5.28 e tramonterà alle 20.53. Allora abbiamo detto l'inizio della nostra rassegna e allora diamo subito un'occhiata alla prima pagina del Carlino Marche dove si riassumono in sintesi le notizie delle cinque regioni marchigiani. Cominciamo con quella di Pesaro. La provincia di Pesaro, ecco il turismo fa boom, caldo e basket ci fanno volare. È una dichiarazione degli albergatori, degli operatori turistici che sono contenti di come si è chiuso il mese di giugno. Un mese di giugno soprattutto caratterizzato dal bel tempo con lievi eccezioni ma che non hanno così turbato l'andamento anche economico oltre che di presenze della stagione turistica. Il punto lo fa Oliva, ex presidente degli albergatori. Giugno molto bene, tutto pieno, commercianti soddisfatti. Questa è la dichiarazione al termine del mese. E poi vediamo le altre notizie. C'è un giallo da sondare, da chiarire e affano. Trovata morta dalla madre, indagano i carabinieri. È una signora di 42 anni che è stata trovata cadavere all'interno della sua abitazione. Non sembra che ci siano segni di violenza e allora si indaga sulla causa della morte. E poi una dichiarazione di Biancani che interviene sul problema della siccità della raccolta delle acque e conviene che nella nostra provincia, come del resto è stato anticipato tanto in passato, serve un invaso, serve un contenitore per la raccolta delle acque da utilizzare quando dal cielo non piove. E questo è un intento che appunto si rafforza con le dichiarazioni del sindaco di Pesaro. Vediamo Ancona. Assalto a Porto Novo, multa e mucillaggine. La fioritura in mare non scoraggia i villeggianti. Le mucillaggine hanno fatto la comparsa in diverse acque del nostro territorio, da Pesaro su fino alle Marche del Sud. Tutto esaurito comunque anche in quella provincia, nella provincia di Ancona. Tante le sanzioni per la sosta selvaggia vicino alla Baia. E beh, il problema della sosta è un problema che si ripercuote da Gabice, oserei dire, fino a San Benedetto del Tronto. Perché poi quando molta gente si addensa sulla costa, ovviamente gli spazi sono quelli e i parcheggi poi languano. L'untore HIV, ve lo ricordate? Quel personaggio che pur sapendo di essere positivo all'HIV aveva contagiato le donne con cui aveva una relazione. Ora è in carcere, ma chiede aiuto. Sto morendo, ma nessuno mi sta curando, ha dichiarato. E poi un'iniziativa di carattere sportivo è piuttosto particolare. Senza braccia attraversa lo stretto di Messina. Ovviamente assistito da altri suoi colleghi, un atleta ha compiuto questa bella impresa. Ascoli è fermo, la confabitare, l'associazione scrive una lettera al prefetto. La violenza è in spiaggia, in modo particolare a Lido Trearchi. E poi Vigi del Fuoco, dopo 35 anni, va in pensione Enrico Croceri e il saluto dato alla città. Tra la folla trionfa Fagioli, duello con Fazzino per la Coppa Teodori. E poi la festa del Vescovo, Palmieri, adesso abbraccia tutta la Diocesi e dice non chiamatemi eccellenza, chiamatemi Don. Ebbene, questo nuovo modo di interferire, di approcciarsi con il Vescovo, rende più umana questa figura. La fa così scendere dallo scranno in cui era magari collocata nei tempi passati, quando la si chiamava eccellenza reverendissima, eccetera, eccetera. Ora basta chiamarlo Don. Ma questo è un segno ancora di maggior rispetto, di maggior rispetto e di maggior affetto per chi ha la cattedra episcopale. A Macerata, travolta dall'onda, in quelle piscine c'è ancora pericolo, una psichiatra morta in Portogallo. E poi sono in arrivo 70 torri eoliche, diciamo di no. Anche questo è un attentato alla tutela dell'ambiente. A Civitanova, Civitase in Consiglio. Altri due posti, ecco i nomi in pole position. Questo è un po' il sunto di quello che poi i giornali nelle pagine successive evidenziano con maggiore attenzione. E ora noi invece apriamo la pagina di Pesaro e diamo un'occhiata all'andamento turistico del mese di giugno. Viva il caldo e viva il basket, perché il caldo e il basket sono due attrattori di turisti nel nostro territorio. Quando c'è bel tempo la gente vuole andare al mare, vuole stare in spiaggia, vuole andare in vacanza e questo ovviamente avvantaggia. Avvantaggia i bagnini, avvantaggia i commercianti, avvantaggia gli albergatori e dà economia al nostro territorio. E poi c'è il basket. Chi è che a Pesaro non ha la passione del basket? Quando sono delle partite importanti, a Pesaro vengono anche persone da altri territori, anche da altre regioni per vedere delle belle partite. Fabrizio Oliva, ex presidente albergatori e gestore di hotel, dice che è andato tutto bene, non nasconde la sua soddisfazione. Tutto pieno, ha detto, un giugno brillantissimo. Il caldo africano, anche qualche svenimento in spiaggia, bisogna stare attenti però, perché le persone anziane è bene che vadano al mare in certe ore, non quando picchi al sole, non nelle ore centrali del giorno. Ebbene ha favorito ed accelerato la grande ondata di giovani e famiglie verso il mare nella primavera domenica estiva. non ha bloccato il desiderio di un tuffo refrigerante, nemmeno il tappeto di mucillaggini che si è sparso sotto il San Bartolo, che ha dato un certo ribrezzo. Poi di questo problema ne parliamo anche con il Corriere Adriatico, dove la situazione non viene data così tanto positiva, come afferma il resto del Carlino. Vediamo quest'articolo che riguarda una bella iniziativa che si è svolta a Candelara. A Candelara si è svolta la quarta edizione del circuito delle Candele, ieri a Villa Berloni, per le moto, anteguerra. Ebbene era una gara pseudo sportiva per quanto riguarda le moto che risalgono ai tempi ante 1945-1940, insomma quelle storiche, un successo del registro storico della Benelli. E c'era veramente la storia del motociclismo in questa manifestazione, quinto circuito delle Candele, un raduno dedicato alle motociclette storico organizzato dal registro storico Benelli e registro storico RAG. Una manifestazione che anche quest'anno ha richiamato tantissimi appassionati da ogni parte d'Italia. Sono arrivati dal Piemonte, dalla Lombardia, anche dal sud dell'Italia, tutti in sella con il casco ovviamente, ma con quelle moto che non sono le moto scintillanti, turbinose di questi ultimi anni, ma sono le moto rombanti ugualmente dei tempi passati. Ebbene la partecipazione è stata di un centinaio di motociclisti su motociclette costruite negli anni 20, 30 e 40, tra cui pezzi da collezione veramente molto molto rari. Ed ora diamo un'occhiata a questo nuovo lutto che ha sconvolto la città di Fano. La città di Fano in questi ultimi tempi è stata letteralmente immersa in una tragedia. Vi ricordate l'assassinio dei due coniugi, coniugi ricci, di cui sabato scorso sono svolti i funerali nella chiesa di Fano II. Ebbene c'è stato un altro lutto, un altro lutto trovata morta una 42enne, era in casa da sola, l'ha rinvenuta la madre, indagano i carabinieri. La donna non presenta segni di violenza, sono state sequestrate alcune sostanze diversi oggetti trovati vicino al corpo della donna. In casa c'era anche una siringa. Si sospetta che potrebbe essere la morte causata da una overdose, ma ovviamente questo ancora non è affatto sicuro. Potrebbero essere tante altre le ragioni che hanno causato questa tragedia. La procura non esclude l'overdose, ma attende l'autopsia. La madre l'ha trovata senza vita in camera sua. Si tratta di Sara Altomeni, 42 anni, residente a Fano, in zona Vallato. Non ha più risposto alla madre. Chiamato il 118, i sanitari arrivati sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso. Tutto è avvenuto alle 8.30 nella giornata di ieri, ieri domenica. Dicevo che non risultano segni di violenza, per cui non ci sono nemmeno segni di effrazione, nessuno è entrato nella casa, quindi non è stata nemmeno una rapina, un furto, un episodio di violenza. Tutto dovrebbe essere risolto così, per conto suo. Insomma, non ci sono problemi per quanto riguarda l'ordine pubblico. Il corpo è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne chiederà l'autopsia e questo forse chiarirà le cause del decesso. E poi abbiamo questo trafiletto con un fondino azzurro, qui nel centropagina, che parla del delitto dei coniugi Ricci. Dopo averli uccisi ho buttato via tutto. E questa è un'ulteriore dichiarazione che ha fatto Luca Ricci, il figlio della coppia, re ho confesso dell'omicidio del padre e della madre. Quella notte sono uscito in bici da solo, ha dichiarato, e ho buttato i vestiti sporchi di sangue nel canale Albani. Questo è uno dei flash della memoria, una memoria che va a sbalzi. Molti non ricordo, qualche puntualizzazione, ma poi ancora non si spiega che cosa è avvenuto. Insomma, ancora la ricostruzione è molto incerta. Ebbene, però, di questi indumenti che sarebbero stati gettati nel canale, non c'è stata traccia, non sono stati ritrovati. Anche questo è un punto da chiarire. Vediamo ancora le notizie che riguardano Pesaro, dove soprattutto ad Urbino si parla di maltempo e siccità. La risposta c'è. Facciamo al più presto un invaso. Dicevo, Urbino, per quanto riguarda il territorio, perché l'alta valle del Metauro è uno dei luoghi in cui si prospetta la necessità di realizzare un invaso. Un invaso che possa contenere la pioggia da sfruttare nei momenti di siccità, che si stanno prolungando sempre più nel nostro territorio. Facciamo al più presto un invaso e una dichiarazione, sia fatta da Gambini in precedenza, al sindaco di Urbino, sia fatta ora dal sindaco di Pesaro, Biancani. Non so, ha detto, dove possa essere realizzato, spetta ai tecnici dircelo, ma la politica deve decidere al più presto. E quindi questo è ancora un invito, un appello in più per realizzare questa soluzione che è stata caldeggiata tante volte anche dal presidente dell'ASET, Paolo Reginelli, che mille volte ha dichiarato che senza questa soluzione, senza gli invasi, il problema della siccità può peggiorare, perché poi prelevare sempre l'acqua dal Metauro, quando la sua portata è sempre quella e invece d'estate ne serve sempre di più, è veramente un problema. Cambiamo argomento e vediamo questo incontro che si è svolto a Fano. Si sono ritrovati, dopo 40 anni, per ricordare l'Eurogembori di Parigi, il primo raduno degli scout d'Europa, meglio noto come Eurojam, della UGSE, FSE, compiuto nell'estate del 1984, quando gli scout di Fano, in particolare il reparto nautico, al Debaran del gruppo Fano uno partecipò all'evento di Belle vicino a Chateau-Rou, a Chateau-Rou, scusate, Chateau-Rou, castello russo, sui campi di stoppie di grano appena raccolto nella località francese. Qui si riunirono 5.700 scout sotto le tende e fu veramente un grande raduno, rimasto indimenticabile, tanto che molti di quegli scout si sono ritrovati per ricordare quel momento, quel momento di spensieratezza, di avventure, di sogni per quanto riguarda l'età adulta. Don Ciotti ha fatto visita a Isola del Piano, è stato ospite del sindaco Giuseppe Paolini e ha parlato della mafia, dobbiamo estirpare il male alla radice e soprattutto non dobbiamo dimenticarci che in Italia sono 170 anni che continuiamo a parlare di mafia e siamo ancora qui, c'è qualcosa che non torna, un problema che non si è mai risolto. Ecco perché occorre ancora insistere, fare qualcosa di più per estirpare il male. È appunto l'invito di Don Ciotti. E allora chiudiamo il resto del calino e apriamo il Corriere Adriatico. L'articolo di apertura è dedicato alla donna trovata morta in camera, Sara Altomeni, 42 anni, era deceduta da diverse ore, l'autopsia deve accertare la causa della morte. L'abitazione era chiusa dall'interno e l'allarme è stato dato dalla madre, che non riusciva a mettersi in contatto con la figlia, per cui ha cercato di entrare in casa, ma la porta era chiusa, sequestrata una siringa. E appunto questo è purtroppo l'amara ipotesi che si ventila, insomma che si suppone che sia l'origine della morte, insomma una tragedia anche qui che ha un po' destato il cordoglio e anche la sensazione di tutti i residenti del Vallato. Ieri si sono festeggiati i 30 anni della Lega Navale di Fano. Il sindaco ha conferito una targa di benemerenza al sodalizio nautico che da tutti questi anni opera per incentivare, per salvaguardare la passione in modo particolare dei giovani, la passione del mare. Fano è proiettata sul mare per tanti aspetti, per la costruzione delle barche, per la pesca, per il diporto, per questa colleganza, rapporto con un ambiente che è simbiotico tra appunto acqua e terra e poi il paesaggio e poi l'entroterra, insomma veramente l'economia balneare, l'economia peschereccia, l'economia portuale è un fatto importante nell'economia generale della città di Fano. Lega Navale, un sodalizio che organizza corsi di vela, ma non solo di vela, abbiamo anche il SAP e anche altre specialità, la canoa, eccetera, e quindi alimenta la passione dei giovani per il mare. Proprio ieri sono stati consegnati gli attestati di partecipazione di ben tre corsi, due organizzati per gli adulti e uno per i giovani. Poi un bel pranzo sociale e quindi una cerimonia per ricordare i 30 anni di questa presenza. Ricordiamo che la Lega Navale gestisce un po' tutti i posti barca del portocanale, insomma ci sono diverse situazioni per le quali svolge un ruolo di rilevante importanza. 30 i corsisti che sono stati appunto premiati. E oggi e oggi si riunisce il primo Consiglio Comunale della Giunta Ser Filippi. Si riunisce il nuovo Consiglio Comunale, Cavalieri si fa strada per la Presidenza, uno dei punti salienti della seduta di oggi che inizierà alle 18.30. Ovviamente la seduta è aperta a tutti, quindi in presenza tutti i cittadini possono partecipare e assistere allo svolgere dei lavori. Chi non vuole andare in presenza può collegarsi con il sito del Comune di Fano e assistere grazie appunto alle telecamere, alle videocamere, allo svolgersi della seduta. Ci sono ovviamente la Costituzione dei gruppi consigliari. Vediamo anche da chi sono composti il gruppo maggiormente rappresentativo e quello di Fratelli d'Italia, composto da Davide Del Vecchio, Francesco Cavalieri, Andrea Montalbini, Mosè Gaiardi e Maria Flora Gian Marioli. La Lega è rappresentata da quattro consiglieri, oltre a Luca Serfilippi che è il sindaco. Ebbene, sono Mario Alberto Rinaldi, Davide Pieretti, Camilla Ravagli e Luca Antonioni. Fano Cambiapasso, lo stesso ha avuto quattro consiglieri, ne fanno parte Marco Bavosi, Luciano Cecchini, Giuseppe Costa e Luigi Scopelliti. Un solo consigliere di Forza Italia, Fiammetta Rinaldi, e dei civici Fano, in questo caso è Cristian Forti che è subentrato perché l'assessora Loredana Manghernino ha ricevuto questa delega dal sindaco Serfilippi. Per quanto riguarda invece le minoranze, il Partito Democratico sarà rappresentato da tre consiglieri, Sara Cucchiarini, Dimitri Tinti e Cesare Magalotti. La lista civica in comune ha il suo leader, Samuele Mascarin, e poi abbiamo invece la lista civica Fanesi sindaco, sarà rappresentata da Ippolita Bonci del Bene. Del consiglio fanno parte anche Cristian Fanesi, che era il candidato sindaco del centro-sinistra, e poi abbiamo anche Francesco Panaroni, unico rappresentante del Movimento 5 Stelle. Questa è un po' la composizione del consiglio comunale, dopo le varie rinunce degli eletti che hanno rinunciato al loro incarico per essere poi destinati ad occupare altri ruoli extra consiglio, extra giunta, quello delle società che sono partecipate dal comune di Fano. La battaglia del Metauro ha una bellissima rievocazione, questa nell'entroterra a Monte Felcino. Monte Felcino c'è stato veramente questo passo indietro nella storia, e rivedere i cartaginesi combattere con i romani è stata una grande emozione. La battaglia del Metauro traurla, rumori di lame e scudi, spettacolare combattimento a sterpeti di 200 figuranti di fronte a 2.000 persone. Ebbene, è uno spettacolo che ha radunato tantissime persone, chissà se veramente quello è stato il luogo della battaglia del Metauro, ma ormai poco importa. L'importante è che si è rivissuto questo schema di battaglie, come Asdrubale è riuscito a perdere questa battaglia di fronte all'esercito condotto a dei consoli romani, e appunto a lui è stato impedito di riunirsi con il fratello Annibale che lo aspettava nel sud Italia, in Puglia. E poi non dimentichiamo che tutto era stato corredato da tutta un'altra serie di iniziative di completamento della battaglia. C'è stato un mercatino artigianale, visite guidate all'accampamento e percorsi storici, e poi si sono svolte le metauriadi, gare sportive tra romani e cartaginesi, con la corsa alle armi e il lancio del giavellotto. Altro spettacolo rievocativo, l'imboscata del pretore Porcio ai danni delle truppe di Asdrubale, ormai spossate alla ricerca di un guado sul Metauro. Insomma, è stata una bella giornata per coloro che sono andate nell'entroterra. E con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a domani alle 7 per le notizie del giorno alle 20.30 con il TG di Fano TV, Occhio alla Notizia. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Grazie. 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 Grazie.